dodo sulla destra serve davanti a sé a marabat che fa proseguire lungo linea attenzione attenzione fiorentina che arriva con Iconee in area di rigore rigore per la Fiorentina Iconee sulla destra ha saltato Tomori palla lunga linea di marabat per Iconee che sulla destra con una finta ha saltato Tomori è entrato in area Tomori da dietro l'ha spinto l'ha spinto hanno sbracciato tutte e due alla fine Tomori l'ha spinto un po' di più Iconee a terra caccio di rigore per la Fiorentina Nico Gonzalez sulla battuta Nico Gonzalez sulla battuta Nico Gonzalez contro Magic Mike Nico Gonzalez in corsa lunga per abbattere quello sinistro Nico Gonzalez parte Nico Gonzalez tiro gol della Fiorentina al 49esimo minuto Fiorentina in vantaggio sul calcio di rigore con Nico Gonzalez in salta di Ibra una palla che stava per giungere in area ma non ci arriva e poi subisce fallo la Fiorentina con Castrovilli se quando metti i giocatori fisici la Kaioko, Ibra e non fai arrivare per loro in area ti serve un po' la Kaioko ti può servire solo per quello ti può servire però perché la quantità che fa il centro campo te la fa grandissimo anche Benassero non hai bisogno certo di Baccaio Copperfile se hai Benassero non hai certo bisogno di almeno che non si sia fatto male a Benassero ma non credo intanto Fiorentina che si distende dalla destra Dodò metto il verso di l'aria goda la Fiorentina Giorgio Origi 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 probabilmente nel possesso del pallone Tonali a larga per Ibra in area Teo tiro di Teo gol di Teo gol di Teo gol di Teo gol di Teo ma al 95esimo minuto troppo tardi gran gol di Teo Tonali palla palla per Selemeker che ha servito Teo che è arrivato galoppando in area dalla sinistra tiro sotto la traversa tiro sotto la traversa di Teo gol di Teo ma purtroppo è troppo tardi gol di Teo gol di Teo gol di Teo gol di Teo gran gol tra l'altro gran gol ma col sinistro sotto l'incrocio di palla sotto la traversa imparabile al 95esimo minuto credo che sia troppo tardi purtroppo